Si deve aprire una stagione se questo governo ha una durata medio-lunga, si deve aprire un rapporto più stretto tra la città di Napoli e il governo. Rapporto corretto, chiaro, leale, fatto da un'amministrazione che in otto anni ha cambiato il volto di Napoli, è un governo che ha una maggioranza che è stata votata in buona parte al sud, parlo del partito di maggioranza relativa al Movimento 5 Stelle, quindi ci sono le condizioni per fare questo, mettendo da parte ogni forma di propaganda, sedersi attorno a un tavolo e far comprendere al governo come noi in questi anni abbiamo realizzato l'autonomia nonostante poteri criminali e nonostante forti ostacoli istituzionali. Noi col governo ci dobbiamo lavorare a prescindere, abbiamo provato a dialogare con tutti i governi e non vedo perché non dobbiamo provare a dialogare con questo. Su alcuni argomenti riusciamo anche a dialogare efficacemente, su altri non ci troviamo per nulla d'accordo, dai temi della sicurezza, ai temi dell'immigrazione, alle dichiarazioni di Salvini che lei citava su Trump, le posizioni politiche nostre rispetto al governo sono molto distanti, altre cose poi è confrontarsi sui problemi concreti come il Mezzogiorno, come la Irkul, come su tante altre questioni. Io noto un grande rispetto comunque del governo complessivamente nei confronti della città di Napoli, anche oggi interloquendo col Presidente del Consiglio ho avuto conferma di questo, quindi Napoli non si sente né isolata da questo punto di vista né non considerata. Dobbiamo sempre di più però innalzare il livello della qualità dei servizi e della vita della nostra città, questa è la sfida. Nei prossimi due anni io sono impegnato H24 perché ci possano stare quei trasporti più efficienti, quella città più pulita, questo è l'obiettivo. È chiaro, se arriva un atteggiamento diverso da parte dei governi nazionali e regionali noi ne siamo ben lieti, per ora tutto quello che vedete ce lo siamo conquistati, quindi anche quando andiamo in sofferenza, è una sofferenza di una città che da un punto di vista normativo, istituzionale e finanziario è stata anche lasciata molto sola e l'autonomia differenziata se la rimettono in discussione come argomento centrale non può che aggravare tutte queste situazioni, nella risposta è quella che ha proposto il presidente De Luca di fare un'autonomia differenziata di tutte le regioni, non è quello il tema.